Amiche e amici di Rossini TV, torniamo in studio per un appuntamento autunnale che in qualche modo riapre la nostra stagione, è un appuntamento a cui cominciamo a essere veramente tanto affezionati, siamo in studio con Cristian Della Chiara, buongiorno Cristian. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora perché Cristian Della Chiara è qua? Ebbè è qua perché in quanto direttore artistico del Festival dei GAD è qua a raccontarci ormai l'imminente inizio del festival in questa trasmissione che ci siamo inventati ormai da tre stagioni che prevede queste tappe di avvicinamento, aspettando il GAD, una specie di verso il festival, andiamo avanti passettino, passettino, vi facciamo entrare nell'atmosfera e perché no, vi facciamo anche venire la voglia di andare a fare gli abbonamenti perché poi questo è il punto che ci interessa anche. Certo, diciamo con uno sguardo a quello che è stato il risultato dell'anno scorso, quindi proponendo gli spettacoli che sono stati premiati l'anno scorso, abbiamo pensato di avvicinarci a quella che invece è un'edizione importante, un compleanno importante perché la 75esima edizione dal 1948, ininterrottamente, il Festival GAD apre il sipario per un pubblico che è sempre affezionato. Dicevi bene, insomma c'è la possibilità di abbonarsi, allora se mi permetti partirei proprio da qui, ricordando le condizioni di estremo vantaggio che abbiamo riservato ai nostri spettatori, il costo dei biglietti è estremamente contenuto, costano 12 euro il biglietto intero, ma poi ci sono riduzioni per i più giovani e per i meno giovani, oltre che per i soci della nostra associazione, il biglietto è 10 euro e per gli studenti delle scuole solamente 7 euro. Se ci si abbona la convenienza è ancora maggiore perché l'abbonamento a tutti gli 8 spettacoli in concorso e uno fuori concorso costa 80 euro intero, 60 il ridotto e 40 per gli studenti delle scuole, quindi veramente prezzi alla portata di tutti. Il festival intende essere una manifestazione di avvicinamento al mondo del teatro e quindi riteniamo importante cercare di abbattere per quanto possibile l'ostacolo economico, soprattutto in un periodo in cui ci sono delle difficoltà che possono essere, che cerchiamo di favorire perché possono essere superate. Quindi prezzi estremamente vantaggiosi, un festival aperto a tutti che ci aspettiamo che riscontri anche quest'anno una grande risposta. Come sai quella dell'abbonamento è una delle mie fisse un po', io sono particolarmente affezionato all'idea non tanto per un motivo economico o cose del genere che ovviamente non guasta, quanto perché fare l'abbonamento è un gesto di fiducia, praticamente vuol dire fidarsi di chi ha selezionato e qui entriamo un po' nel vivo. Ricordiamo che il festival nei suoi 75 anni ha avuto l'occasione di visionare e di selezionare migliaia e migliaia di proposte e tra queste migliaia di proposte ogni anno entrano in cartellone un numero ristretto. Mi verrebbe quasi da dire, anche pensando a quest'anno e adesso ti chiederò quante sono state le candidature, che essere selezionati è già aver vinto un po'. Esattamente così, non a caso quindi il momento in cui comunichiamo le compagnie selezionate è un momento che da qualche anno trasmettiamo in diretta Facebook ed è veramente bello ascoltare poi il racconto delle compagnie scelte che ci trasmettono l'emozione di quei momenti in cui in diretta scoprono di essere state selezionate, perché dici bene tu, il festival, ci sono due selezioni. La prima è una preselezione che le compagnie fanno diciamo in coscienza, presentando la candidatura solo se sono consapevoli di avere realizzato uno spettacolo di qualità, perché il festival è riconosciuto come uno dei più importanti festival nazionali di teatro per il mondo del teatro non professionistico e quindi diciamo c'è un'auto selezione che fa sì che si candida solo chissà di aver fatto un buon spettacolo. Dopodiché quest'anno 85, un numero enorme se consideriamo che siamo ancora in una fase post-pandemica in cui le compagnie hanno fatto fatica a riprendere l'attività, ma negli ultimi anni prima del Covid eravamo abitualmente sopra le 100 proposte, all'interno di queste ne scegliamo solo 8 in concorso, quindi essere 8 di 80, ma di un numero che è già stato selezionato precedentemente, già significa come dicevi tu, avere vinto. Poi il festival è un concorso, all'interno di quello ci sarà chi avrà ulteriormente vinto perché poi sarà scelto come spettacolo migliore o vincitore dei numerosi altri premi di categoria per la migliore interpretazione, migliore scene, costumi, musiche o regia, insomma tanti premi che il festival mette a disposizione. Questa nostra trasmissione è strutturata in modo da fare una introduzione, descrivendo un po' i contenuti, i temi e i motivi del festival e poi farvi vedere una delle commedie, ma è l'occasione anche per parlare di qualche novità e di qualche approfondimento, per esempio il premio dei trailer, il premio Rossini TV che abbiamo lanciato l'anno scorso un po' in corsa diciamocelo e quest'anno invece col tempo debito e con tutto quanto è stato strutturato nella maniera migliore. Sì, ci ha divertito l'idea di affiancare al concorso ufficiale per gli spettacoli rappresentati in teatro anche uno che fosse in linea con i tempi in cui si parla tanto di contenuti digitali, di contenuti video, c'è tanta comunicazione sulle piattaforme sociali, quindi abbiamo pensato ad un premio che valutasse chi meglio promuove il proprio spettacolo attraverso un piccolo trailer di circa 60 secondi che diffondiamo sulle nostre piattaforme, quello che riceve il maggiore numero di consensi è quello che risulta vincitore. In questo era naturale avere come partner chi fa della comunicazione video la propria mission e quindi Rossini TV partner dall'anno scorso. Abbiamo ideato assieme questo concorso e quest'anno lo riportiamo avanti, come hai detto tu, prendendosi qualche giorno, qualche settimana in più per organizzarlo al meglio. E ricordiamo che appunto i filmati verranno, oltre che proposti nelle piattaforme digitali dell'associazione Amici della Prosa e tutto quanto collegato ai like e tutto il resto per stabilire chi poi vincerà, verranno naturalmente anche proposti da Rossini TV in chiusura dei TG, per cui seguiteli perché otto trailer sono quelli che poi potrete andare, cercando appunto l'opportunità di farlo, a votare per poi dare il premio perché poi alla fine il più cliccato, il più votato, il più segnalato riceverà il premio Rossini TV. E in chiusura, prima di parlare della commedia di questa sera, ricordiamo questa piccola cosa che è piccola ma è grande. I premi quest'anno hanno una veste diversa con questa nuova collaborazione, cioè nuova, rinnovata, rilanciata collaborazione con l'associazione Amici della Ceramica. Hai fatto benissimo a ricordarlo, ci fa molto piacere essere un'associazione che dialoga con le altre realtà del territorio. Ci sono tante collaborazioni importanti con il fotoclub ad esempio con il quale organizziamo la tradizionale mostra fotografica e anche quest'anno o con l'ente Olivieri, l'associazione Pesaro Segreto con cui abbiamo fatto un bellissimo evento dedicato a Pasqualoni in un anno dove ricorreva un doppio anniversario e rinnoviamo anche quest'anno la collaborazione con gli Amici della Ceramica, impreziosendolo ulteriormente. Quest'anno il premio tradizionale, l'arlecchino che è il simbolo del premio del nostro festival, sono stati realizzati, commissionati e realizzati da Mirko Bravi, presidente dell'associazione Amici della Ceramica e appunto saranno un valore aggiunto, sono molto molto belli, avremo occasione di vederli in anteprima fra qualche giorno, li presenteremo, però diciamo ci piace dare un ulteriore segnale di questo dinamismo che c'è sul nostro territorio e della capacità di collaborare fra le varie realtà. Non solo quest'anno c'è questa cosa in più dei primi premi realizzati da Mirko Bravi, ma anche quest'anno tutti i membri dell'associazione hanno offerto un proprio premio, quindi i premi di tutte le categorie sono realizzati dagli Amici della Ceramica e siamo estremamente grati e orgogliosi di questa collaborazione. Diamo appuntamento a tutti alla seconda puntata di Aspettando il GAD in onda fra qualche giorno. E racconteremo gli spettacoli perché c'è stato un convitato di pietra, non abbiamo parlato degli spettacoli che ci saranno. Non abbiamo parlato ancora no, ma piano piano ci entriamo. Buona visione. Arrivederci.